Non è bastato il teatro sociale di Fasano a contenere i tantissimi fans del professore pugliese Vincenzo Schettini, vera e propria star del web, che con il suo modo di spiegare la fisica sui social sta spopolando in tutto lo stivale. Giunto a Fasano per presentare il suo libro La fisica che ci piace, nell'ambito della rassegna letteraria organizzata dalla Mondadori Point Libriamo tra le masserie, Schettini ha letteralmente rapito il numero generoso pubblico presente, con le sue spiegazioni delle leggi della fisica, accompagnato dal conduttore radiofonico Sabino Zaba e da Laura De Mola, entrambi suoi amici ventennali. Professor Schettini, qual è l'equazione tra fisica e social network? Bella domanda, allora sicuramente il secondo principio della dinamica, ovvero la forza applicata ad un oggetto uguale alla massa per l'accelerazione, perché non c'è nulla da fare. In tutti i due casi, questa diciamo che è una formula bionivoca per fisica e social media, è così, cioè ogni volta che noi applichiamo una forza, in qualsiasi caso, in questo caso naturalmente è figurato, acceleriamo quell'oggetto. I social media hanno fatto questo, cioè sono riusciti almeno attraverso me, attraverso la mia opera e quello che io sto facendo con i giovani e non solo con i giovani, a fare sì che possano essere utilizzati per poter imparare, per poter apprendere, per potersi incuriosire, per poter capire qualcosa che si credeva di non poter capire. Quindi questa è una cosa meravigliosa.